Anche per l'anno 2022 la FE, Fondazione Internazionale per l'Educazione Ambientale, ha riconosciuto Silvi, meritevole della Bandiera Blu, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea. Un riconoscimento che contraddistingue prodotti e servizi turistici che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale. L'amministrazione comunale sta lavorando alla clemente anche per organizzare iniziative che possano attrarre i turisti nella località rivierasca della provincia di Teramo in vista dell'imminente stagione estiva. Sicuramente un importante successo, questa amministrazione è il quarto anno consecutivo che prende la Bandiera Blu, siamo felicissimi del traguardo raggiunto e soprattutto perché quest'anno tutte le sette sorelle hanno preso questo traguardo e dunque è veramente un ottimo risultato. Si spera in un'estate di ripresa per le attività turistiche con il Comune che ha lavoro per chiudere il prima possibile i lavori di messa in sicurezza della costa sud del ripascimento, nei punti fortemente erosi dalle mareggiate. Sì, i lavori sono ripartiti, stanno procedendo speditamente, già il pontone, la nave che deve inserire le barriere soffolte sta lavorando in maniera spedita e soprattutto tra oggi e domani partirà anche il ripascimento. I silvi si preparano un'estate ad alti livelli? Abbiamo avuto qualche difficoltà con il bilancio, siamo andati un pochino più in là però sta partendo tutto, stanno partendo gli asfalti, stiamo partendo con la manutenzione del decoro sulle ruole, stiamo facendo veramente tutti i lavori che avevamo programmato e penso che quest'anno si possa avere una bellissima estate. Grazie a tutti.